un annuncio ai bersaglieri della quarta morta ai pesanti alla faccia vostra allora senti un po domenico ma quanti anni fa noi ci siamo incontrati ma guarda secondo me sono 33 33 agli anni di cristo e che facevamo in giro 33 anni fa il militare dei giorni eravamo ragazzi eravamo sono passati in buoni anni ma siamo contenti comunque ciao a tutti ciao state liberi